Per dire che in un momento come questo, dove il Parlamento, il Governo, Renzi e il PD ritiene che la priorità del Paese sia la liberalizzazione delle droghe, la legge sulla cannabis, la legge sull'unione civile... E' d'accordo o non è d'accordo? Lei no? No, assolutamente no. Come saldini? Meglio liberare il sesso e far pagare le tasse che non sviluppi? Meglio abolire la legge Merlin, assolutamente. In un momento in cui per la maggioranza del Governo, il PD, le priorità sono la legge sulle unioni civili, la legge sulla liberalizzazione della droga, la legge sulla cittadinanza, diamo la cittadinanza a tutti indistintamente, indipendentemente dal fatto se c'è stato un processo di integrazione, noi siamo andati a dire che probabilmente in un Paese normale i problemi principali del Paese, le priorità del Paese, non sono queste ma sono altre. Ad esempio la cancellazione della legge Fornero, una legge, l'abbiamo già detto, ripetuto in mille modi, in mille circostanze, è una legge che ha creato dei danni disastrosi al Paese, agli anziani, alle nuove generazioni, sono stati cancellati i diritti acquisiti.